Duro comunicato della Fiorentina nei confronti del suo allenatore Vincenzo Montella leggiamo La società è in attesa di essere messa a conoscenza della chiara posizione del suo con la S maiuscola allenatore Montella nel rispetto degli accordi presi a suo tempo e della correttezza finora tenuta riteniamo che per il rispetto di tutti rispetto anche tutti dobbiamo alla maglia e ai nostri tifosi sia indispensabile definire la situazione e non si possa temporeggiare ulteriormente e con queste tutte queste parole mamma mia che sarà c'è stancato Vincenzo c'è stancato allora come andrà a finire secondo te? ma come andrà a finire? se non te l'hanno d'accordo ma lui perché ancora non ha sciolto le riserve? perché si aspetta di venire a Napoli tutti a Napoli? tutti a Napoli al prossimo anno l'allenatore Garzia a Napoli che cura il centrocampo il possesso palla Montella che mi cura l'attacco per la difesa? Mialovic no, Giano Dalmina però no, però fa part time la mattina Dalmina e poi Giano Dalmina un saluto a tutti, grazie ciao grazie a tutti a tutti a tutti a tutti a chi parla